Fun Numbers Cominciò a trasformarsi diventando Saltman! L'uomo con i poteri di una saliera! Intento a fermare il mondo del crimine un granello alla volta! Questi soldi sono tutti miei! Non mi prenderete mai! Sta scappando! Conosco la persona giusta da chiamare! Pronto? Un rapinatore lumaca ha derubato la banca e sta scappando! Cloruro di sodio! Sarò lì in un pizzico! Salt! Volevo dire Alt! Maledetto rapinatore lumaca! Oh no! Saltman! Qui per porre fine al tuo baboso regno del crimine! Ah! Questa è sale! Brucia! Ci rivedremo ancora! Beh immagino che prenderò la minaccia con un pizzico di serietà! Ancora una volta Saltman ha risolto la situazione Rimanete sintonizzati per i nuovi episodi Le avventure di Saltman Ciao ragazzi se il video vi è piaciuto Come al solito fateci sapere qui sotto nei commenti Questo è un nuovo animatore Speriamo che vi piaccia Ci vediamo a un altro video Ciao ciao